Spaccio, degrado, bivaco, prostituzione. Qui i trans, qui di notte vanno e vengono. La situazione in piazzale Olivotti alla fine di Via Piave a Mestre sta diventando ormai insostenibile per i residenti che da tempo continuano a denunciare una condizione che non accenna a migliorare, nonostante i controlli ci siano. Questo sembra essere nel Bronx, addirittura noi abbiamo dovuto, attorno alle case, farci le cancellate, per impedire almeno che venissero a fare i loro bisogni nei muri delle case. Stanno qui, bevono tutto il giorno, sono ubriachi, litigano. Ogni volta che mi affaccio alla finestra vedo qualcuno urinare. Non c'è un momento di... qui ci sono i tolletri di urina qui attorno. E infatti basta spostarsi di qualche metro. Qui siamo in un punto di piazzale Olivotti più nascosto rispetto alla parte centrale, quindi vengono ad urinare con più frequenza, l'odore che si sente è irrespirabile. Urina, feci, droga, siringhe, atti sessuali, spesso sotto le finestre degli appartamenti. Chi staziona in piazzale Olivotti non ha alcun ritegno, così come non l'ha avuto nemmeno di fronte alle nostre telecamere quando una persona che i residenti raccontano essere un noto spacciatore della zona si è abbassato slip e pantaloni. La mattina io passo, sono qua e che... Tu li vedi proprio che si... Si fumano, si fanno proprio, che si fanno, che si bucano, tutto quanto. In piena notte assolutamente sì e anche la mattina presto rischi di trovare la gente che è distesa qui davanti e chiaramente questo comporta un rischio importante anche perché non sai mai la reazione di chi effettivamente poi è davanti. Secondo me dovremmo trovare un sistema per mandare al loro paese. Non vengono qui per lavorare, sono qui solo e discurivamente per bere, ubriacarsi, fare i loro... Questo è quello che fanno tutto il giorno. Grazie a tutti.